Incontri, sopralluoghi, riunioni. Tutto è stato predisposto per il piano sicurezza dedicato a Mediterraneo, evento iniziato oggi pomeriggio a Firenze e che si concluderà questa domenica con l'arrivo del Santo Padre in città. In mattinata si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica per gli ultimi dettagli, anche se, come racconta il prefetto ai nostri microfoni, le forze in campo verranno modulate di giorno in giorno. Diciamo che complessivamente circa 700 sono gli uomini di rinforzo che verranno aggiunti alla cosiddetta componente territoriale per far sì che insieme anche alle specialità, ai tiratori scelti, ai cani, insomma tutto quello che è previsto in queste occasioni possa garantire la sicurezza. Poi ci sono certamente delle aree del centro storico di Firenze che verranno chiuse, alcune anche al traffico veicolare, i lungarni in particolare, alcune zone appunto del centro, altre verranno diciamo blindate come la zona di Santa Croce o di Piazza della Signoria perché in quei momenti in cui saranno presenti il Pontevice, il Presidente della Repubblica, pensiamo, immaginiamo che ci sarà una grande voglia di avvicinarsi ma sarà impossibile farlo perché le zone saranno transennate, saranno controllate.